Nome Gabriel Luke Cognome Lau Craft Soprannome Gabriel Crafty Età 25 Professione Player Professional FIFA Da piccolo cosa avresti voluto fare? Un calciatore I wanted to be a firefighter because my dad was Piatto preferito? Lasagna Anything with steak really, so like just steak and chips, steak and potatoes Fin preferito? Shutter Island Probably Lord of the Rings Qual è il tuo idolo nello sport? Cristiano Ronaldo Steven Gerrard E l'emozione più grande vissuta finora in carriera? Penso Se è stato qualificarmi al mio primo torneo in mondiale internazionale Probably Qualifying for the Grand Final FIFA 18 Quante ore ti alleni al giorno? Dipende da se ci sono tornei o no, però ogni giorno almeno 2-3 ore, 4 Around 4 Depending on if I play in a practice tournament or not If I play in a practice tournament maybe about 7 Vacanze estive dove? In Croazia o Grecia Spain We used to go to Spain every year Hobby preferito? Beh, calcio Probably going to the gym Il primo poster appeso in camera? Eh, penso stato uno di Milito forse One of Steven Gerrard Cosa pensi di lui? Cosa pensi di lui? Eh, oltre ad essere un grande giocatore e anche un bravissimo ragazzo E sono contento di averlo come compagno di squadra Cosa ti dice più spesso il tuo allenatore? Eh, voglio di vincere Probably that I could do more I could work harder Achieve more Ai tatuaggi? No, no ancora No In cosa pensi di essere più bravo rispetto a lui? Forse a difendere Maybe penalties? Da 1 a 10, quanto sei? Generoso Noto 8 Disordinato 9 3 Ambizioso 10 7 Goloso 7 4 Timido 8 7 Scaramantico 10 2 PlayStation o Xbox? Xbox FIFA o Pest? FIFA all day Social preferito? Instagram Probabilmente Twitter Cosa ti fa arrabbiare di una persona? Penso le persone false Ehm... Inconsiderate people Che musica ascolti? Un po' di tutto, in particolare musica elettronica, in English mode Probabilmente rap Canzone preferita? No, questa non si risponde Choose World, Wishing Mal Canta l'inno del Genoa Con i pantaloni rossi e la maglietta blu Il simbolo del Genoa è la nostra gioventù I... At the moment Can't do it But I promise I'm going to learn it Sport preferito oltre il calcio? Eh... Uh... I like cage fighting Sogno nel cassetto? Eh... Vincere il mondiale di tipo To... Make my parents proud Il consiglio più prezioso ricevuto in carriera? Eh... Penso... Quello di dare... Diciamo tutto me stesso In quello che credo E... Appunto... Dare il massimo Make the most of it Well you can Because you don't know how long You'll be able to Salute ai tifosi del Genoa Un saluto a tutti i tifosi del Genoa Mi raccomando seguite anche il Genoa di eSports I'm really happy with how it's been going since I joined Genoa And I appreciate all of your support along the way Grazie 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 Grazie